E sono poi diversità di carismi, ma uno solo è lo Spirito, e sono diversità di ministeri, ma uno solo è il Signore, e sono diversità di operazioni, ma uno solo è il Dio, che ha tradotto in tutti e ciascuna trattata, e sono diversità di manifestazione particolare dello Spirito per l'utilità di un nome. A uno viene concesso dallo Spirito il linguaggio della sapienza, a un altro superleggio dello stesso Spirito il linguaggio di scienza. A uno la fede per mezzo dello stesso Spirito, è un altro dono di far merigliare, per mezzo dell'unico Spirito, a uno il potere dei miracoli, è un altro dono della povertia, è un altro dono di distinguere gli spiriti, è un altro dono di distinguere gli spiriti, è un altro dono di varietà delle linee, è un altro clima di interpretazione delle linee, ma tutti queste cose del linguaggio di scienza, il linguaggio di scienza, è un altro dono di scienza, a ciò che si può fare, è un altro dono di scienza,